Buongiorno e benvenuti, oggi è lunedì 27 marzo e questa è la rassegna stampa di Fano TV in diretta. Allora, siamo qui per leggere i giornali, il resto del Carlino ed il Corriere Adriatico, le edizioni della provincia di Piesa Urbino, oggi con gli inserti sportivi. Cominciamo dal calendario, vediamo il santo di oggi, la chiesa ricorda il Beato Francesco Fadi Bruno, il sole è sorto alle 6.59 e tramonterà alle 19.28 minuti. Il tempo dal sito geometeo.it, vedete le immagini della giornata di oggi, nella mattinata e il pomeriggio sera, questa è la grafica che ci dà una panoramica della regione Marche, mentre nello specifico invece il bollettino della protezione civile delle Marche, eccolo qua, cielo parzialmente nuvoloso e al primo mattino poi il cielo oggi tornerà ad essere sereno o poco nuvoloso. Non si escludono deboli fenomeni residui nelle zone interne durante la notte a carattere nevoso, al di sopra dei 1.200 metri. Le temperature, se state per uscire questa mattina, insomma mentre siamo in diretta a 7.30, sappiate che è fresco, siamo intorno ai 6 gradi, le temperature infatti ieri sono diminuite sensibilmente, in particolare nei valori massimi. Per la giornata di domani, martedì 28 di marzo, cielo sereno, temperatura in diminuzione nei valori minimi, in aumento invece nei valori massimi. Tempo stabile per i prossimi giorni. C'è la cronaca con una tragedia, una tragedia che riguarda un ragazzino di soli 16 anni che è rimasto vittima di un incidente durante una gara di motocross che si è disputata in provincia di Fermo. E allora andiamo subito sul resto del Carlino. L'urto in volo, con la moto, poi la caduta rovinosa, gravissimo a un sedicenne. Si chiama Andrea Dini, di Macerata Feltri, in gara a Fermo. Per lui che appunto stava gareggiando, è dovuto intervenire il 118, presenti a bordo pista. Lo hanno rianimato per almeno mezz'ora con circa 300 atleti attoniti e in silenzio assoluto a seguire il decorso del massaggio cardiaco. Poi l'applauso di chi era attorno, il cuore di Andrea ha ripreso a battere con regolarità. E poi l'arrivo dell'ambulanza che lo ha portato al Torrette di Ancona. Naturalmente questa notizia trova spazio in primo piano, in prima pagina anche sul Corriere Adriatico. Il titolo si schianta dopo un salto, quindi c'è ne gravissimo motocross all'incidente nel Fermano. Il ragazzino è residente nel Pesarese. Siamo a Ponzano di Fermo, la domenica degli appassionati di motocross. All'impianto di Ponzano si è interrotta bruscamente per un grave incidente che ha coinvolto uno dei giovani partecipanti al Trofeo Marche. Intorno alle 14 è rimasto ferito un ragazzo pesarese di 15 anni trasportato in urgenza alla Torrette di Ancona. E naturalmente c'è anche la notizia sulle pagine interne del giornale. Torniamo sul resto del calino, la pagina di Fano, perché ieri alla Cooperativa Tre Ponti c'è stato un pranzo, un pranzo in cui si sono ritrovati in 250 persone alla Cooperativa Tre Ponti, dicevo, per la Proloco. La Proloco che ha festeggiato, 250 soci, questo pranzo sociale seguito all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dell'associazione, un bilancio consuntivo di 270 mila euro, quello che è stato chiuso al 31-12 del 2016. E ci sono state prove in qualche modo di disgelo con il Partito Democratico dopo i dissapori con il vice sindaco Marchegiani. Mentre di spalla, vedete, l'aeroporto, c'è Serafini, il nuovo commercialista, l'incarico professionale per quanto riguarda la gestione della società aereoportuale, Fano Fortuna, gliel'ha dato il nuovo amministratore Massimo Ruggeri, gli ha affidato questo ruolo di commercialista, ha chiesto meno di 2.000 euro l'anno, nel 2013 ne percepiva 24.000. Spariscono biciclette nel nulla, 300 all'anno, almeno questo è il dato di Pesaro, ma pochi derubati fanno denuncia, difficile restituirle anche se vengono ritrovate, non lasciano traccia purtroppo. E anche l'iniziativa, qualcuno la ricorderà, dell'adesivo da applicare sulla bicicletta con i numeri di telaio, purtroppo, dice il comandante di Pesaro della Polizia Municipale Galdenzi, non ha avuto fortuna. E le denunce presentate ai Vigili Urbani di Pesaro nel 2016 sono state 40, si stimano però 150 denunce l'anno, comprese Carabinieri e Polizia, in tutto circa 300 furti all'anno, come dicevo. Poi in via Battisti, in via Battisti dalla Campanella ai Campanelli, nel senso che in questo stabile, in questo stabile appunto dove c'erano le suore, in via Cesare Battisti, l'ex scuola elementare, un tempo c'era la scuola, adesso invece verranno costruiti gli appartamenti, questo stabile è stato venduto in segreto 1.800.000 euro per 800 metri quadrati. Che cosa accade ora? La trattativa è stata gestita da Roma, il Vescovo Coccia ne ha preso atto, pare che ci siano stati anche dei dissapori tra le suore, insomma, del Sacro Cuore e il Vescovo di Pesaro. Le aule di un tempo verranno inevitabilmente trasformate in appartamenti, ambiti, visto che lì c'è tutta la zona del mare e dunque sono appetibili. Turismo, parliamo di turismo sul Corriere Adriatico, questa è l'immagine, se vogliamo, non dico simbolo, però è una delle immagini dei Viali di Pesaro. Turismo pronto a ripartire, un affare da 3.000 imprese, la stagionalizzazione delle attività resta la fetta principale del settore. Ci sono, naturalmente, come tutte le sfide, anche le incognite che ci sono e che nel caso delle Marche, insomma, riguardano anche, per esempio, terremoto e quant'altro. Al nido solo bambini vaccinati. Pronto il sì dal Comune di Pesaro assist bipartisan alla Regione Marche. Oggi il voto sulla mozione trasversale. In base ai dati dell'Asur, la città è maglia nera come copertura. L'opposizione attende risposte sulla stabilità del palazzo dell'ex genio civile. Poi sotto, profughi e poveri da ospitare, famiglie, fatevi avanti, Perugini, replica Baldelli, il PD è compatto, noi volano nazionale. È questa iniziativa di Marco Perugini che ha invitato le famiglie pesaresi ad ospitare dei profughi a casa. Santa Marta, ritorno da Londra. Altre classi dell'alberghiero partiranno questa mattina per l'Inghilterra. Una gita di istruzione. Il docente accompagnatore dice abbiamo sentito i genitori e i ragazzi, non c'è stata nessuna defezione. I ragazzi a Londra il giorno dell'attentato, nei giorni scorsi diversi studenti si sono trovati a pochi metri dall'attentato. Però insomma la vita va avanti, insomma questi giustamente tornano e vanno avanti così come era stato previsto. Il drone invece, siamo a Colli al Metauro. Il drone vola e individua la misteriosa villa romana, sorpresa dalla ricognizione effettuata sopra il territorio di Colli al Metauro. Dicevo, qualcosa c'è sottoterra nel sito dove sono stati ritrovati gli antichi mosaici nel 1920. Con ogni probabilità si tratta dei resti della villa romana, spiega con la carica di simpatia che le è congeniale Irene Cecchi, presidente della Proloco di Saltara. E da Urbino invece Palazzo, Gerardi, che sperpero, ma Sprecopoli parte da lontano. Prima dell'indagine della finanza è stato al centro di una battaglia burocratica. Ancora dal Corriere Adriatico, questa volta la pagina di Fano. Anche qui la notizia del pranzo sociale della Proloco. Proloco che è cerniera del volontariato e cuore pulsante per il turismo. Vi aderiscono 29 associazioni fanesi, l'assemblea ratifica il bilancio annuale. L'elogio del sindaco, si moltiplicano i contributi pubblici e coinvolgono la città. E poi vedete l'immagine del cantiere aperto in via Mura Malatestiana a Fano. È stato avviato qui in questo tratto dove sotto c'è la ferrovia il restauro delle mura. rischiava questo tratto, rischiavano di sgretolarsi per le piante infestanti. Il cantiere però sacrifica alcuni posti auto che sono utili anche per andare a fare shopping in centro. Però è bene che vada messo in sicurezza. Salviamo invece il mulino Albani. Tante idee per il recupero. Due classi quinte del Torelli chiedono l'uso a Museo dell'Immobile di Archeologia Industriale. Gli studenti fanesi alla centrale Monte Martini e l'ex mulino Albani. Quello che poi verrà demolito a breve e al suo posto nascerà un centro commerciale. L'iniziativa coordinata dalla docente Mancini valorizza varie arti, la storia e le identità locali. Poi asfaltature. Siamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Manutenzione svolta con metodo. Rilevate dalla Comune di Fano Magagni a Bellocchi e anche nell'Interquartieri. Dove vi abbiamo fatto vedere anche nel nostro telegiornale come in alcuni punti già l'asfalto si sia un po' sgretolato. Le ditte sono però state costrette a rimediare. È un cambio di passo se vogliamo rispetto agli anni scorsi dove poi ci si doveva rassegnare, fare spallucce. Tanto ormai è rovinato. In realtà qui questa volta si va giù duro. Cioè se l'asfalto non funziona io non ti pago. Se l'asfalto si rompe io non ti pago. Così almeno ha cominciato a ragionare bene il Comune di Fano. Dalla Valle del Cesano, San Lorenzo, palcoscenico per lanciare nuovi album. Si rafforza il progetto del Paese della Musica dopo Dixon, spazio a Pacassoni e Frida Neri. L'altra pagina invece, l'ultima, quella della nostra segna stampa che riguarda Senigallia. Senigallia la storia bellissima di questa suora che ha cambiato decisamente vita perché da ingegnere è diventata monaca di clausura. Ciao mondo, dice lei, in convento ho tutto. Alessia Carboni ha preso i voti a Forlì diventando suor Maria Francesca. E dice lei, ora sono completa. E guardate il suo sorriso, il suo sguardo, dicono tutto. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con l'informazione su Fano TV, sul canale 17, torna questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale. Mi raccomando, segnatevi sul vostro cellulare in rubrica questo numero di telefono che vedete in sovraimpressione. E se avete qualcosa da segnalarci, utilizzatelo con WhatsApp. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.